Per me le persone, il cibo, il lifestyle, il modo di vivere, bellissima. Per me è cacamo perché è un posto medievale, è un posto bellissimo, le persone sono accoglienti come ha detto mio marito. Poi, strategicamente, come si dice in italiano questa parola? Allora, posizione di cacamo, è un'ora dall'aeroporto, è molto molto comodo. Questo è stato proprio una delle cose più importanti per noi. Cacamo è un posto meraviglioso, sì, meraviglioso. Ci sono delle arti di cacamo, ci sono dei... Uh! Allora vai! Attenzione! Non ho fatto niente! Sì! Wow! Sì, no, è un posto con il castello normale, guarda, è una cosa, è un posto meraviglioso, con le chiese, i stupendi, c'è tutto qua, c'è tutto. Mare, montagne, lago, castelli. Abbiamo comprato la casa, io parlo troppo, lo so. È anomale. Abbiamo comprato la casa in gennaio 2011, poi dopo tre anni, 2014, abbiamo deciso di prendere la residenza e venire qui, a vivere qui. Per me cacamo c'è tutto. Qui si trova una moda da vivere che è stupendo. Si può anche avere una vita nel passato, vivere una vita nel passato, è bellissimo. Allora 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 Allora